No, perché adesso ce l'ho poca! No, dai! Non la voglio più sentire parlare così! Ah, è già sfoccato! Comunque per me è impossibile farlo! Dai 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 dai! Sì perché è in ritardo! Però non lo facciamo neanche con lo Spirito Santo! Merda! Peccato! Se l'aveva ancora tanto? Eh, aveva già un periodo! Ma dove ci l'abbiamo visto un altro? Nel uno! Nel due! Ah, non l'abbiamo visto! Brava! Che ermoo! Ferdinando per me l'ha già soppasa! Beh, ultimazione, come Toughular… Che l'ha già dei tapi… Ora dai dalla copia… Ora devi imparare… A stare ferma… bravo peccato moro ti sento terra gas guara 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 Non è che non ve la direi. La fisica, i piedi dei calmi. 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 Se voi evitarete, prendete il muro. Deve andare dritto. bravo bravissima bravo 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 brava 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 poi si mette un'esistenza ma dalla sua i primi minuti della parte d'Italia devi interagire tutto il tempo il primo tempo se il calista non c'era 2-0 3-0 non c'era da dire niente e al secondo tempo mentre erano pressati hanno avuto 2-3 quello che si è spiegato ha bevuto qualche... Simeone sii sii quello è al primo tempo al primo tempo peglia la parata quindi l'allace non ha fatto vedere grandissimo hanno tenuto il pallino della partita hanno visto quando hai visto a un certo punto 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 un certo punto a un certo punto a un certo punto a un certo punto che è un certo punto a un certo punto a un certo punto a un certo punto che è un certo punto